ciao a tutti oggi utilizziamo il pirografo brand peter tedesco con la regolazione della temperatura e che ha in dotazione queste quattro punte che vedete sul video oggi abbiamo fatto il disegno di una rosa su una tavoletta di compensato è una tavoletta ovale di uno spessore di 3 mm e misura 13 x 19 cm quindi abbastanza grandina e abbiamo trovato questo disegno l'abbiamo riportato con la carta a carbone sulla tavoletta di legno naturalmente prima di andare a fare il disegno abbiamo lisciato bene con la carta vetrata come vedete stiamo usando un pirografo a filo con una punta piatta la punta piatta è comoda sia per fare le sfumature come in questo momento sia per fare il tratto più grosso più pesante però come vedremo più avanti può essere utilizzata anche di taglio per fare il tratto molto fine ecco in questo caso viene usata di taglio qui invece la usiamo per fare il tratto più grosso più spesso questo è un pirografo molto buono prodotto in germania con la regolazione della temperatura questo permette anche di fare le sfumature con un tratto molto molto delicato invece può essere utilizzato anche su legni più duri come noce il castagno l'ulivo e in quel caso servono temperature più elevate quindi la possibilità di regolare la temperatura è utile proprio anche in base al tipo di legno che viene utilizzato qui vediamo nella parte alta della tavoletta che ci sono dei segni e sono stati fatti di prova diciamo prima di pensare di fare il disegno della rosa e poi vedremo come abbiamo deciso di coprirli per avere tutta l'immagine tutta la tavoletta ben decorata grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qui abbiamo finito la rosa e adesso andiamo a decorare le parti più esterne, c'è anche una macchia del legno sulla sinistra, oltre ai segni che avevamo fatto per errore. Ecco qua come abbiamo pensato di decorarla, come se ci fosse un cespuglio con delle foglie. La nostra tavoletta è finita. Volendo, a questo punto si può personalizzare scrivendo il nome di qualcuno a cui la vogliamo regalare. Spero vi sia stato utile questo video, vi aspettiamo per i prossimi, iscrivetevi al nostro canale e se vi servono dei pirografi li trovate sul sito elettronicadidattica.com. Ciao a tutti, alla prossima!